Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono RishaFly e oggi insomma è il giorno della Befana Anche se per voi che state guardando il video sarà già passato, quindi volevo fare giusto un video blog Oppure un video che può essere utile di Clash Royale, adesso vi spiego tutto Aspettiamo che si carica, vabbè Ok, allora vedete questi bauli dove c'è scritto apri, ecco tipo baule maggio, baule della corona, baule d'oro, baule d'argento Io sto cominciando a sbloccare anche questi due perché poi farò uno spacchettamento di bauli, contenti? Ok, io spero di trovarci qualche leggendaria come il mastino oppure lo stregone di ghiaccio, anche se sarà molto complicato trovarle Ok, vedete io tengo la Tornado e volevo farvi vedere come farvi attivare la Torre del Re Ecco, andiamo a fare uno scontro in campo di prova Cosa abbiamo la Tornado nel mazzo? No, non ce l'abbiamo, quindi mettiamo qualche truppa Eccola qui Eccola lì che si è caricata Ok, mettiamo una sfera infocata Ecco qui, allora è ottima mossa, dunque dobbiamo mettere la Tornado giusto in questo punto A tira e ecco, vedi? C'è attivato il cannone e noi potremmo fare molto più danno all'avversario Ok, intanto facciamoci la partita Vedete che il cannone arriva anche Quindi vabbè, facciamo una partita Allora io penso di poter mettere lo scheletro gigante di qua Insomma da questa parte qui a destra Ok, se lui ci mette la strega Noi gli mettiamo e Sgheri non appena attacca la Torre Ok Già di strada, ok Ok, e mettiamoci anche lo scheletro gigante Tanto perché lei ha messi l'airo bimbo Ah, ok, lui ci mette la Fireball E noi andiamo con lo scheletro gigante E mettiamo anche noi la Fireball La sfera infocata Oh, 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 oh Tornado, tornado Vai Ok, perfetto Tanto non c'è riuscita Oh, bam Bomba esplosa Ok, pensavo di Ah, mettiamo il gigante Solo per contrastare Insomma, per distrarre Questi Sgheri E poi ci mettiamo una Valkiriozza Ok Vabbè, sì Ci attacca comunque Perché ha messo i Goblin? Vabbè, ok Il maestro Basil È un po' strano Mette carte proprio a caso In cui possiamo mettere Ah, ok Tu ci metti questo Io ti metto il bomba roll E scheletro gigante Vai Ok 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 Vediamo Vediamo se arriva A 700 Ok Un'altra bomba fa Un'altra torre fatta Vai Attacchiamo Facciamo il devasto Più totale Vediamo Se riusciamo a fare Anche Un'altra torre Dove avere Sì, l'ha presa La torre Ok Un'altra torre Ma questo è fissato Con i domatori Si vede E vai E facciamo Tre corone Vediamo Guardate quanto è bella Ok Questo qua Il mio clan Si chiama Made in YouTube E potete Entrarci se volete Ok Io spero che Questo video Vi sia piaciuto Vi ricordo Di iscrivervi al canale E lasciare un like E noi ci vediamo Al prossimo Ciao Ciao